Avvocato, avete presentato nelle ultime ore un ricorso sulla centrale SNAM a Sulmona, quali sono le novità e quali sono i punti salienti proprio di questa nuova azione che avete messo in campo? Per quanto riguarda i rischi per l'ambiente abbiamo evidenziato che si tratta di un'opera che verrebbe realizzata in una zona del Parco della Maielle ed altre zone sottoposte a protezione e andrebbero anche a creare problemi per delle specie protette. Mi riferisco in particolare all'orso Bruno Marsicano e ad altre specie. Per quanto riguarda invece l'aspetto della salvaguardia dell'incolumità delle persone abbiamo ricordato che quest'opera dovrebbe essere realizzata in una zona sismica 1, quindi ad elevato rischio tellurico. Quindi da questo punto di vista per noi è esistente anche questo grande problema. Più propriamente dal punto di vista giuridico abbiamo rilevato che questa procedura in realtà si tratta di più valutazioni di impatto ambientale e rese per ciascun tratto e questo modo di agire da parte del Mise non è corretto ed è anche in contrasto con quella che è la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea che per le opere strategiche prevede un'unica valutazione di impatto ambientale. Inoltre abbiamo evidenziato altre criticità come per esempio l'aspetto della non decisività dell'opera perché si è fatto il discorso rispetto al fabbisogno nazionale di gas che nel corso degli anni andrà a diminuire per cui questa sovrapproduzione di impianti sarà in effetti inutile e poi altri aspetti più prettamente procedurali.